Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800-039-036 per avere un trattamento privilegiato 800-039-036 Continuiamo con le esibizioni di By Night Roma Siamo qui in presenza di Francesca Di Meco del Teatro Nello Scalo Aspetta che ti apriamo via un bel microfono Ciao Francesca Ciao a tutti ragazzi Allora dunque siamo abituati col Teatro Nello Scalo Ricordiamo con la direzione artistica di Sandro Torella Siamo abituati a farvi fare le scene dei film comici E vi riescono benissimo Ma come abbiamo voluto variare col Teatro Contocorrente Questa sera abbiamo voluto variare anche con voi E questa sera ci presenterete non un film ma uno spot E vai È contentissima la nostra Francesca E vai, e vai, e vai Lo spot che tu ci presenterai, quello che abbiamo scelto apposta per te È lo spot dell'ines seta ultra gli assorbenti Quindi abbiamo il file, tu ora lo guarderai quando lo mostreremo Lo guarderai, lo ascolterai E dopodiché te lo faremo reinterpretare Benissimo, strabenissimo Comunque non va la questione del rito scaramantico by night È strano però, comunque ora anche no Io pensavo mentre venivo Le scuole sono finite Si iniziano gli esami di maturità Ci sono anche gli esami universitari Ma cavolo non avete un rito? Non avete una cosa che, che ne so, propiziatoria Che speriamo la faccia andare bene? Non lo so E noi vogliamo saperla All'800 039 036 Vi aspettiamo qui in diretta da Random Pub di San Lorenzo Avete qualche rito scaramantico? Noi siamo curiosi Stasera vogliamo sapere Ma tu ce l'hai il rito scaramantico? No, non ce l'ho Non ce l'ho Ma è strana questa cosa però Soprattutto sul teatro Quando ti svegli, quando ti addormenti Niente, niente Al teatro Di solito si fa merda, merda, merda Quello classico e basta Uno tuo personale, niente? No, non ancora Non è sfigata Ascoltatori vai Insomma, se avete una cosa che durante la giornata fate per evitare la sfiga Basta di cercare in diretta Chiamando il numero verde 800 039 036 Ottimo, ci siamo quindi Francesca Di Meco Siamo pronti Lo spot è di Liness Seta Ultra Ora te lo stiamo facendo vedere Quando siamo pronti Siamo quasi pronti Tu ora lo guarderai, lo ascolterai Dopodiché lo interpreterai Ecco a voi lo spot di Liness Seta Ultra Seta Ultra Vado lì per il provino da VJ Mi fanno parlare, recitare, improvvisare Poi il regista mi fa Sai fare la ruota? La ruota Proprio oggi che mi sono arrivate Poi la faccio Avevo Seta Ultra Liness Seta Ultra con Area Stop Dice stop alle fuoriuscite Persino quando fai la ruota E vai, sono una VJ Liness Seta Ultra Affronta sicura le occasioni della vita Ti rendi conto? Questo è sempre stato un po' ridicolo Infatti, come dire Lei che fa la ruota Oh, mi sono venute Guarda, io non l'ho mai fatta la ruota Per fare la VJ Secondo me adesso Lei la deve reinterpretare Però senza audio Giusto? A modo suo Allo stile teatro allo scalo Ecco Sei pronta? Ti sei concentrata? Rilevto il copione? Sennò ti facciamo fare la ruota Te lo dico Va bene, va bene lo stesso Ok, siamo pronti? Allora, sei pronta? Fammi stare Siamo pronta? Sei preparata? Hai fatto un respiro? Dunque, mister Siamo pronti? Pronta, pronta Talento della notte di By Night at Roma Lei è Francesca Di Meco E lo spot è quello di Linus Seta Ultra Sentiamo come sta la casa Vado lì per il provino da VJ Mi fanno parlare, recitare, improvvisare Poi il regista mi fa Sai fare la ruota? La ruota? Proprio oggi che mi sono arrivate Poi la faccio Avevo Seta Ultra Linus Seta Ultra Con alia Stop Dice stop alle fuoriuscite Persino quando fai la ruota E vai, sono una VJ Linus Seta Ultra Affronta sicura le occasioni della vita Te la sei capata bene, secondo te? Spero di sì